A poco meno di una settimana dalla stipula del contratto che ha visto l'affidamento alla Harari Nantes del presidente Maurizio D'Angelo della gestione della piscina comunale Felice Cascione di Imperia fino al 2023, emerge una nuova sorpresa. La società sportiva ha infatti dovuto versare su richiesta del Comune un'imposta di registro di circa 100.000 euro per la firma del contratto. I vertici della Harari hanno però chiesto un parere sulla questione all'Agenzia delle Entrate, la quale ha fatto sapere alla società che in realtà quella imposta non andava versata. Ora ci si attende quindi la richiesta di rimborso da parte della società presieduta da D'Angelo che come d'accordo i precedenti riceverà comunque dal Comune di Imperia 350.000 euro l'anno per la gestione dell'impianto natatorio.